Tronchetto di Natale, arancia e cioccolato. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andiamo a preparare insieme questo dolce natalizio super morbido. Iniziamo dalla crema. In un tegame andiamo ad aggiungere zucchero di canna, cacao amaro in polvere e amido di mais. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata di mezza arancia per dare un tocco di arancia anche nella crema, anche se poi all'arancia sarà la pasta biscotto. Mescoliamo con le fruste a mano e aggiungiamo il latte. Va bene qualsiasi tipo di latte, io ho utilizzato quello animale senza lattosio ma va benissimo anche quello di mandorla, di avena, quello che avete in casa. Mescoliamo prima una parte del latte con le polveri e poi aggiungiamo tutta la restante parte. Accendiamo il fuoco medio-basso e aspettiamo mescolando che la crema addensi. Quando abbiamo tenuto questa consistenza spegniamo il fuoco, aggiungiamo il cioccolato fondente tritato e mescoliamo fin quando è ben sciolto. A questo punto travasiamo la crema in un piatto, la copriamo con pellicola a contatto per fare in modo che non si crei la pellicina sopra e la lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo creiamo proprio la base. Andiamo a dividere 5 uova, dividiamo i tuorli dagli albumi. Operazione che richiede un po' di pazienza ma cercate di essere precisi perché se un po' di tuorlo finisce nell'albume poi non montano bene. Tutti gli ingredienti che ho indicato li trovate ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Andiamo ad aggiungere poi lo zucchero semolato agli albumi e azioniamo le fruste elettriche. Quando otteniamo un composto bello spumoso andiamo ad aggiungere l'olio di girasole a filo. Continuiamo a frullare finché non otteniamo questa consistenza e poi con le fruste a mano e molta delicatezza aggiungiamo un tuorlo alla volta. Mescoliamo per bene tra un tuorlo e l'altro finché è ben assorbito. Questa è poi la tecnica che utilizza per tutte le sue torte furbe Benedetta Rossi di fatto in casa da Benedetta. Continuiamo in questa operazione dopodiché è il turno delle spezie. Possiamo aggiungere le spezie che vogliamo. Ci sono tanti amanti della cannella ecco io non sono tra quelli. Ho aggiunto un po' di spezie di pan di zenzero, proprio una dose minima. E poi ho grattugiato la scorza di un'arancia. Qui potete sbizzarrirvi con tutte le spezie che volete. Una volta fatto andiamo ad aggiungere la farina setacciandola. Io ho utilizzato la 00 e vi consiglio di utilizzare questo tipo di farina. Andiamo a mescolare delicatamente il composto per non far smontare il tutto. Una volta fatto prendiamo poi una teglia ricoperta di carta forno, la miera da 30x30 e ci travasiamo sopra tutta la nostra crema. Andiamo poi a livellare la crema con pazienza, cercando di ottenere uno strato bello uniforme. La disponiamo per bene in tutti gli angoli e poi siamo pronti per la cottura. Forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 10-13 minuti. Non deve cuocere troppo, quindi teniamo d'occhio l'ultima parte della cottura perché proprio è delicata. Nel frattempo andiamo a stendere il cioccolato fondente che ci servirà per la decorazione finale più realistica, diciamo, che fa somigliare il tronchetto proprio a un tronco d'albero. Io ho semplicemente fatto sciogliere il cioccolato nel microonde, l'ho poi disposto su della carta forno e con una spatolina l'ho distribuito per bene cercando di fare uno strato uniforme. È semplicissimo. E poi l'ho messo a raffreddare in frigorifero oppure, dato le temperature, anche in una stanza fresca della casa. Una volta che la pasta biscotto è cotta la dobbiamo girare, quindi ci armiamo di un foglio di carta forno pulito, capovolgiamo la pasta biscotto e con delicatezza andiamo ad eliminare la carta forno che abbiamo usato in cottura. Questa è un'operazione che va fatta appena la pasta biscotto viene tolta dal forno. Dopodiché ricopriamo e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Nel frattempo preparo la farcia. Prendo 250 g di panna da montare, io utilizzo quella vegetale già zuccherata, la vado a frullare con le fruste elettriche e poi vado ad aggiungere poco alla volta la crema al cioccolato che nel frattempo si è addensato ulteriormente. La vado a frullare per bene fin quando è ben amalgamata. Lo faccio in più riprese in modo tale da riuscire a distribuirla bene. È una farcia buonissima, davvero semplice da fare e un po' diversa dal solito mascarpone che difficilmente mi vedrete utilizzare nelle ricette. Una volta ottenuta la farcia possiamo distribuirla sulla pasta biscotto che ormai è raffreddata. La farcia è piuttosto abbondante. Io l'ho inserita tutta all'interno della pasta biscotto ed è venuto un tronchetto proprio bello, bello pieno, bello farcito. Se però volete una cosa più leggera, diciamo, vi consiglio di lasciare una parte della farcitura a parte e andremo a ricoprire il tronchetto prima di ricoprirlo di cioccolato fondente. Farò un po' d'accollante per il cioccolato fondente. Io comunque ho inserito tutto all'interno della pasta biscotto, l'ho poi arrotolata per bene. Ho preparato della pellicola alimentare, due fogli sovrapposti, più lunghi rispetto al mio tronchetto perché poi mi serviranno per chiuderlo bene. Io ho disposto sopra il tronchetto e poi cercando di stringere il più possibile ho arrotolato il tutto. In questo caso se anche voi mettete tutta la farcia un pochino potrebbe uscire ma non succede niente. Lasciamo riposare in frigorifero per almeno tre ore, meglio ancora se la preparate il giorno prima. Io ho fatto così e è riposato in frigo tutta la notte. Al mattino dopo non mi è rimasto che prendere il cioccolato che avevo fatto e tagliarlo col coltello. Ho visto vari modi di spezzare il cioccolato, c'è chi lo arrotola per creare delle fasce più irregolari. Fate come volete, l'importante è ottenere delle fascette. Nel frattempo il rotolo a cioccolato ha riposato nel frigorifero, lo togliamo da tutte le carte che lo avvolgevano e andiamo a tagliare i bordi perché sono poco estetici, non che non siano buoni, sono finiti come merenda. Andiamo poi a ricoprire il tronchetto con della crema di nocciole che farà d'accollante per le strisce di cioccolato. L'ho fatta sciogliere leggermente in microonde per renderla più spalmabile. Se invece avete mantenuto parte della farcia potete tranquillamente utilizzare quella. Una volta fatto non ci resta che disporre le striscioline cercando di sovrapporle leggermente sul tronchetto per renderlo più realistico. Spolverata di zucchero a velo come se fosse una leggera nevicata ed ecco qui il nostro tronchetto pronto. Semplicissimo, buonissimo, si può preparare il giorno prima e decorare sul momento. È davvero un dolce soffice, fresco e leggero con quella delicata nota di arancia. Spero tanto che questo dolce vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollicino in su. Qui vi lascio altre idee di dolci per il Natale che spero vi siano utili e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!